Musica Buongiorno a tutti ragazzi sono sempre io DadoMod e questo qui è il nono vlog quindi stiamo andando alla grande ragazzi sì in questa settimana siete aumentati sono aumentate le iscrizioni e quindi mi fa molto piacere siamo a 42 iscritti e mi state chiedendo di fare vari giochi adesso sto cercando in tutti i modi di farli per vari motivi perché io il tempo a disposizione ce l'ho ma non è che per esempio ho mezz'ora non è che la dedico a un video magari se non ho voglia perché dopo tutta la storia del caricamento ci vuole un po' il montaggio e quindi magari preferisco fare un'altra cosa però comunque cercherò di andare avanti cercherò di caricare tre video a giorno purino a settimana più il vlog e poi partiranno nuovi giochi può darsi adesso devo vedere ancora e mi raccomando fate le fan art che mi serve una fan art un logo diciamo per rappresentare che magari la metto al posto di questa da un modo official channel non so vabbè e magari con scritto facebook skype youtube così e magari la metto anche come fan art ecco buttiamola lì la metto come fan art migliore del mese ok e quindi adesso magari ci pensate su poi e mi dite e poi ok scrivete sempre in un modo non risponde che io cercherò sempre di rispondere invece anche se mi fate domande assurde come quella che vedremo adesso che è davvero assurda l'ho capita non l'ho capita infatti se magari me la spiegate dopo ecco perché non l'ho capita perfetto quindi partiranno nuovi giochi e io direi di passare alla fan art che faccio vedere adesso l'ho già fatto vedere in precedenza non è quella migliore perché cioè quelle due precedenti che fate vedere nello scorso vlog erano tutte e due stupende quindi adesso ne faccio vedere una magari la prossima volta ne faccio vedere con l'altra e perfetto e poi vorrei subito dirvi che vi vorrei ricordare che se mi volete scrivere appunto una domanda nell'altra che da un modo non risponde lo potete fare sotto questo video che io la leggerò per il prossimo ok ecco questa qui ragazzi è la fan art che vi faccio vedere oggi è molto carina naturalmente cioè the best is dado mode abbiamo già detto tutto e quindi magari fate un simbolo ve lo ridico e cercate di farmelo avere magari ecco bene passiamo a il dado mode non risponde allora questa qui è la domanda fatta da Luca Lops tra parentesi Lopsi Lopsi come il cavolo si legge vabbè e lui scrive a stato il dado mode non risponde un dino due dini tre dini sono un contadino allora come faccio sempre nei vlog quando rispondo a queste domande complicate che ci vuole tipo una testa come questa ragazzi come questa e io non ce l'ho mi dispiace bisogna chiamare il cappellaio che risolverà tutti i nostri problemi quindi andiamo a chiamarlo allora ragazzi sì sono il cappellaio stavolta sono un cappellaio mago quindi riuscirò subito a capire con i miei poteri sovranaturali cosa voglio dire questa domanda perché è complicata ragazzi è complicata un dino due dini tre dini sono un contadino non lo so se sei un contadino tu però ho capito che un contadino questa volta non mi freghi bimbo bimbo contadino cioè un dino due dini l'ho capito contadino l'abbiamo capito tutti sì comunque non ho capito perché ho messo tanti puntini dopo tre dini perché non ci sono altri numeri no perché io so contare fino a tre quindi perfetto magari potete scrittere anche quattro dini cioè vabbè di solito si arriva sempre a tre sto numero misterioso però il tre non mi piace a me quindi andate avanti magari a contare perché il tre non mi piace quindi mi dispiace ma ti devo mettere un pollice in giù perfetto direi di passare la parola a quel grande bastardo di dadomod ok apposto benissimo ragazzi e quindi anche questo vlog l'abbiamo concluso mi raccomando scrivete e disegnate per questo grande uomo mi raccomando le vostre ve lo voglio ripetere le vostre i vostri sporti per fare le daduart ecco le daduart sono graditi e andranno a hollywood forse quella lì era per i cinema ma è uguale e forse è meglio parigi vabbè e comunque andranno in un posto bello e per adesso sono in camera mia però andranno in un posto migliore e un posto migliore di questo naturalmente quando moriranno ecco quindi io concluderei il video commentate iscrivetevi mettete mi piace buongiorno a tutti ragazzi